Nella giornata di ieri la guardia di finanza e i carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Pesaro Albino hanno dato esecuzione di tre arresti, due con custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di tre titolari e gestori di una rete nazionale di distributori stradali di carburante. Sono stati anche sequestrati quattro impianti, tutti nelle marche, per un valore stimato di 2 milioni di euro. L'attività di indagine, denominata operazione mandafoto, è stata avviata un anno fa e scaturisce dalle risultanze di una verifica fiscale in materie di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi eseguita dalla finanza di Pesaro a un distributore rientrante nella categoria delle cosiddette pompe bianche no logo, vale a dire distributori senza marchio non appartenenti alle grandi compagnie petrolifere. Già nel corso della prima verifica fiscale i finanzieri avevano rilevato palesi condizioni di sfruttamento nei confronti dei dipendenti. Le conseguenti indagini hanno permesso di risalire responsabili dei reati di caporalato, estorsione, truffa e illeciti penali in materia di immigrazione e di lavoro individuati negli amministratori di una società campana di commercializzazione di carburanti e in un pesarese referente di zona con funzioni di caporale. Nel corso delle attività investigative è stato assodato come alcuni dipendenti fossero indotti anche sotto minaccia a svolgere massacranti turni di lavoro senza riposi, pause, giorni festivi, permessi o ferie. I datori di lavoro oltretutto elargivano stipendi a piacimento ben al di sotto del salario minimo. Grazie a numerosi servizi di pedinamento, intercettazioni e utilizzo di telecamere nascoste, gli investigatori sono riusciti a documentare lo stato di sfruttamento di lavoratori tutti extracomunitari che, sottopagati ed esposti a turni di lavoro incessanti, erano costretti anche a vivere in sgabuzzini interni ai distributori in precarie condizioni igienico-sanitarie. Lavoratori che erano anche obbligati ad attestare la loro presenza sul posto di lavoro attraverso foto o video che dovevano inoltrare ai loro datori. In pratica, il datore di lavoro tramite WhatsApp con un testo mandafoto richiedevano al dipendente l'invio di una foto o di un video a testimonianza della sua presenza sul posto di lavoro. L'inosservanza di quest'ordine si traduceva, nella migliore delle ipotesi, nella minaccia di sospensione di stipendio, di licenziamento immediato e, nei casi più gravi, i minacce di percosse o morte. Non solo, in più occasioni sono state intercettate conversazioni dove gli indagati davano indicazioni su come manomettere la corretta funzionalità degli impianti di erogazione o su come procedere alla mescola dei prodotti petroliferi. Ad esempio, i filtri sporchi o intasati non dovevano essere sostituiti ma forati. Se il carburante immesso in alcune cisterne non era qualitativamente buono, bastava miscelarlo con un'altra tipologia di prodotto. Dunque è stata attestata una volontaria, illecita, in missione in commercio di un prodotto sporco, non depurato, di scarsa qualità e capace di procurare danni reversibili al motore degli inconsapevoli utenti. Contestualmente ai sequestri e agli arresti sono state eseguite numerose perquisizioni nei luoghi di dimora degli indagati e presso le sedi delle società coinvolte nei comuni di Pesero, Terre Roveresche, Caserta, Marcianise, Milano e Sperlonga, in provincia di Latina. Grazie. Grazie.